Episodio 69 di Excel, oggi vediamo come possiamo collegare più cartelle di lavoro insieme. Ricordatevi che le cartelle di lavoro sono i file di Excel separati, quindi questo è un file dentro a più fogli. Quello che noi vogliamo fare non è collegare più fogli ma più cartelle. Potrebbe essere che se avete un piccolo business o una piccola contabilità, quello che è, non avete una sola cartella di lavoro perché magari volete dividerlo a livello logico, piuttosto che non volete che uno sia troppo pesante, quindi potreste avere tanti motivi ma volete usare alcuni dei dati presenti in una cartella di lavoro, in un'altra o più cartelle di lavoro. Quindi oggi andremo a fare questa cosa qua. Allora è molto semplice, cominciamo a scrivere dei dati innanzitutto. Scriviamo dei dati randomici, facciamo così, ok. Ora andiamo a creare un nuovo file, file nuovo, lo creiamo come nuovo, molto bene, lo vedete. Tanto che ci siamo è cartella 2, salviamolo a sto punto. Facciamo mayusk f12, lo voglio salvare in documenti e la voglio chiamare secondo file, sì, secondo file va bene. Facciamo così, xlsx, salva e abbiamo il nostro secondo file, zoom a 175. Ora quello che voglio andare a fare è, ricordatevi, visualizza, possiamo andare su cambia finestra, mi sposto di qua se volete, oppure direttamente disponi tutto, affiancate e vedete che abbiamo il nostro corso in Excel con, qua non si vede, il secondo file. Eccolo qua, salvataggio completato, proviamo a rifare, ok, perfetto, secondo file che è questo qua. Allora per copiare i dati uno potrebbe mettersi qua, fare ctrl c, ctrl v, ma non è la stessa cosa perché se io poi vado qua a sostituire, guardate un po', non succede niente. Allora per copiare in modo corretto dobbiamo metterci qua, copiare e poi tasto destro e andiamo a selezionare incolla collegamento, vedete? Quindi non incolla normale, non valori, non formule, non trasponi, non formattazione ma incolla collegamento e se andiamo a vedere la barra delle formule, anzi guardiamolo da qua direttamente, possiamo vedere che questo c4, vedete che è questo c4, in realtà ha un punto esclamativo davanti, il che vuol dire che fa riferimento a qualcos'altro ormai lo sappiamo e ciò a cui fa riferimento non è solo il foglio 1 punto esclamativo c4 come se fosse nella stessa cartella di lavoro, ma abbiamo tra virgolette, sì il foglio 1, lo vedete, ma tra parentesi viene mostrato quello che è la cartella di lavoro, quindi sto andando al contrario per farvi capire, abbiamo la nostra cella c4, giusto? Poi abbiamo il punto esclamativo che ci dice guarda che non è la c4 dello stesso foglio, è in un altro foglio, giusto? Poi di solito avremo qua il foglio 1, tuttavia essendo di un'altra cartella andiamo a metterlo tra virgolette, quindi tra virgolette è sì un foglio 1, ma di che cos'è? Di un'altra cartella di lavoro, di cui andiamo a specificare tutto il nome, tutto compresa l'estensione, all'interno di parentesi quadre. Sulla falsa riga di quello che abbiamo appena visto io vi faccio vedere come potremmo andare a fare più e se scriviamo tutto a mano proviamo, facciamo così, e metto tra parentesi quadre corso excel.xlsx, parentesi quadre già chiusa, faccio foglio 1, yes, punto esclamativo, punto esclamativo fuori, ecco qua, c5, vediamo un po', bam, e vedete che qui ne abbiamo sommato questa più questa, quindi ecco questa è la sintassi per delle celle che fanno parte di un'altra cartella di lavoro. Molto bene, ora potremmo avere la stessa cosa per quanto riguarda delle funzioni, poniamo il caso che qua vogliamo avere una funzione, anzi, mettiamoci qua, e facciamo uguale, magari facciamo una media, ok, quindi media, e voglio la media di questo, punto e virgola, questo, vedete, punto e virgola, mi dà la possibilità di scegliere un altro, lo vedete da qua, nel momento in cui ho fatto punto e virgola posso scegliere un altro parametro da inserire, io voglio fare questa, potreste andare su un altro, su un'altra cartella, su un altro foglio se ce l'avete, non è un problema, da qua facciamo invio, e vedete che quindi abbiamo, se vado ad aprire qua, abbiamo la media di c4, eccola qua, poi abbiamo la media di questo che non ce lo seleziona, però ce l'abbiamo, quindi c6 che è questo qua, e poi c4, niente male, niente male, ora, esco da qua, salviamo i nostri file, quindi mayusk f12, vado a chiudere tutto, quindi chiudiamo questo, yes, chiudiamo anche questo, riapriamo excel, corso excel, ok, è successo qualcosa, vedete, avviso di sicurezza, l'aggiornamento automatico dei collegamenti è stato disabilitato, che cosa succede? è che abbiamo dei collegamenti, quindi excel giustamente ci dice, guarda, tu hai dei collegamenti per quanto riguarda questa, questa formula, giustamente, che cosa vuoi fare? Vuoi aggiornare i collegamenti o non vuoi aggiornare i collegamenti? Proviamo ad aprire l'altro file invece, quindi file, secondo file, però non vorrei che fossero insieme, ok, chiudo questo, non salvo, mi posiziono qua, proviamo ad aggiornare questi dati, mettiamo magari 1, 2 e 3, facciamo così, salviamo, chiudiamo il file e vediamo cosa succede all'altro file, quindi io ho aggiornato i link, cioè ho aggiornato i dati, quindi dovrebbero aggiornarsi i link, ma se vado a prendere l'altro file, vediamo un po', prima chiudiamo questo, excel, secondo file, e vedete che i dati non si sono ancora aggiornati, giustamente era chiuso il file, se andiamo a fare su abilità contenuto, ecco qua, che si sono aggiornati i dati, noi qua avevamo 1, 2, 3 nell'altro foglio, se vi ricordate, ma qua invece abbiamo una somma, vedete, qua abbiamo la somma, motivo per cui non è 1, 2 e 3, in realtà possiamo andarlo a modificare e potremmo fare, togliamo qua il più, ecco qua, facciamo così e vedete che va a prendere l'1, in questo caso è riuscito ad aprire il link con la cartella, con l'altra cartella di lavoro, anche se è chiusa, e aggiornare il tutto, se non ve lo fa fare, se volete non avere più l'alert, volete farlo automaticamente, senza velo gestire ogni volta, magari voi lavorate solo con voi stessi, con nessun altro, non condividete i file, non ricevete roba da altri, eccetera, motivo per cui vi fidate giustamente di voi stessi, perciò potete fare file, opzioni, centro protezione, impostazioni centro protezione, contenuto esterno, eccolo qua, impostazioni di sicurezza per collegamenti a cartelle di lavoro, potete attivarlo sempre in modo automatico, verranno aggiornati i link a prescindere, oppure potete spuntare la casella come abbiamo noi di default, che vi chiederà cosa volete fare, altrimenti potete disattivare l'aggiornamento automatico. Dunque, e questo è quanto. Andiamo su modifica collegamenti, che trovate in, qua da home, dati, query e connessioni, modifica collegamenti, e qua vedete che abbiamo quello che è il collegamento al secondo file, se io vado su secondo file, eccomi qua, e vado su modifica collegamenti, vedete che abbiamo invece il collegamento a Corset Excel, vedete qua, ci dice l'origine, quindi è l'altro file, Corset Excel, il tipo che è un foglio di lavoro, l'aggiornamento e lo stato sconosciuto, possiamo aggiornare i valori, se abbiamo bisogno, possiamo aprire il prompt di avvio, quindi sono le stesse cose che ci aveva chiesto prima, permette agli utenti di scegliere se visualizzare o meno l'avviso, non visualizzare l'avviso e non aggiornare automaticamente i collegamenti, noi vogliamo o veder l'avviso o aggiornarli automaticamente, comunque da qua potete vedere tutte le connessioni. Quello che vado a fare adesso è andare a spostare il Corset Excel sul mio desktop, quindi io apro i documenti, eccomi qua, vedete che c'è qua il Corset Excel, lo sposto sul mio desktop, giustamente mi dà problemi, devo prima chiuderlo, quindi Corset Excel lo chiudiamo, yes, e se io provo a spostarlo sul desktop, molto bene, ce l'abbiamo qua sul desktop, riapro quello che è l'altro file, andiamo a vedere, modifica collegamenti, aggiorna valori, attenzione, vedete cosa è successo? Mi ha dato un problema, perché? Perché non riesce a trovarlo, eccolo qua, ci ha messo un pochino a, ci ha messo un pochino a trovarlo, però non trova più l'origine, quindi noi potremmo fare cambio a origine se volete, altrimenti aggiorna valori e ve lo farà da qua, andiamo su cambio a origine, se io vado sul desktop, l'ho selezionato e vedete che è tutto a posto. Quindi molto semplice gestire i più cartelli di lavoro, potreste avere necessità di farlo, adesso sapete come gestire automaticamente i link, come farlo voi a mano, come appunto linkare i vari cartelli di lavoro ed eventualmente gestire i collegamenti e le diverse origini. Direi che per oggi è veramente tutto, noi ci vediamo nel prossimo video, sotto in iscrizione trovate tutto ciò che serve per supportare il canale, se ci tenete particolarmente, unive la community e fare un salto sul mio sito dove pian piano andrò a aggiungere corsi gratuiti, documentazione aggiuntiva ed esercitazioni. Io vi ringrazio un abbraccio e alla prossima, ciao ciao!